Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di continuare con le ricette casalinghe per la casa. Mi è stato richiesto questo video e non avevo capito che le ricette casalinghe per la casa vi servissero così tanto. E quindi iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vado a fare per pulire il mio lavandino è quella di utilizzare del limone. In questo modo vado a togliere il calcare. Lo strofino proprio, spruccio un pochino di succo di limone e vado a sfregare. In questo modo. Ovviamente questo procedimento fatelo una volta al mese, non c'è bisogno di farlo tutti i giorni. Vado però a togliere il calcare. Passo anche all'interno. E anche ovviamente sul rubinetto. Non c'è bisogno di farlo. Ok, lo lascio agire per un quarto d'ora. Ok, adesso vado a prendere un po' di aceto bianco. Ok, vado a spruzzarlo. Soprattutto nelle zone dove noto che c'è più calcare. E anche questo lo lascio agire un pochino, almeno un quarto d'ora circa. Poi con una spugna che ovviamente utilizzo solamente per pulire il lavabo, vado a strofinare. Infine con uno spazzolino vado a rimuovere il calcare che è rimasto più... Un profondità. Ok. Ok. Banno ancora un pochino con l'aceto. Ok. Ok. Banno ancora un pochino con l'aceto. Ok. E poi vado a pulire accuratamente. di tutto. E quindi nulla, io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto. Metti un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!